In Italia, dal 2000 ad oggi, i suicidi nelle carceri sono stati 565, quattro soltanto negli ultimi tre mesi, due dei quali nel carcere veronese di Montorio. Con questo non invidiabile bilancio arriva dalla Giunta del Veneto il disegno di legge dell'istituzione del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. L'iniziativa, che tende ad assicurare un ruolo super partes della figura del garante, per il miglioramento dell'esecuzione penale, è stata presentata dall'assessore alle politiche sociali della Regione Veneto, Valde Gamberi, nella sede dell'Ulse Venti di Verona. Noi dobbiamo superare un po' alcuni pregiudizi e alcuni tabù sul carcere. Dobbiamo vedere il carcere anche come luogo della riabilitazione, della rieducazione, dove una persona possa trovare anche una nuova prospettiva di vita. Quindi investire sul carcere e istituire una figura come quella del garante, che tenda a considerare tutti gli aspetti, compreso quello rieducativo dei detenuti, che siano effettivamente attuati, significa investire per la sicurezza. Nel corso della presentazione del disegno di legge regionale sul garante detenuti, alla dottoressa Angela Venezia, direttrice dell'Ufficio Detenuti e Trattamento del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria, presente alla conferenza stampa, è stato chiesto quali sono i provvedimenti e le iniziative presi in esame dopo gli ultimi due suicidi avvenuti nel carcere di Montorio. L'attenzione è altissima, è un'attenzione alla persona, soprattutto alla persona. Noi abbiamo il dovere di custodirli, di curarli, e facciamo veramente l'impossibile, oltre che il possibile ovviamente. Soddisfatti del disegno di legge sul garante detenuti, approvato dalla Giunta del Veneto anche i rappresentanti della conferenza regionale Volontariato Giustizia. I detenuti viene solo privata la libertà, non sono privati dei diritti, però in realtà una situazione come quella odierna li rende molto fragili e molto spesso questi diritti vengono negati. Il garante non può fare altro che aiutare a garantire alcuni aspetti di questi. Mi riferisco al problema della salute, per esempio, dove deve essere tirata in ballo l'USL che ha i compiti di sovrintendere a queste istituzioni.